Piacere di averti visto Il reverendo Walter Goodfellow è un uomo pieno di pensieri Dio? Sì, Walter Ha una moglie che si sente trascurata Oddio! Fringi la mazza e piegati sulla palla Ha una figlia Buongiorno, tesoro Molto spregiudicata Olly aveva un reggipetto sulla spalla stamattina Si dice reggiseno ora Con permesso E una governante Leggermente fastidioso, vero? Il suo cane mi ha svegliato Arrivata a mettere ordine A modo suo Vedo sua moglie, sono il suo maestro di golf Vorrei tanto conoscerla Questo sì, che è un mistero Rowan Huckinson, Christine Scott Thomas Maggie Smith E Patrick Swayze Non ti sembra sexy? In un film spaventosamente divertente Adesso basta, signora Basta! La famiglia omicidi Non c'entra assolutamente niente con il resto Ma lei è? Sì, pensa proprio di sì Dal 14 aprile al cinema